ciao in questo video voglio parlare della legionella visto che un argomento un po ostico lo suddividerò in più video la legionella è un genere di batteri gram negativi aerobici di cui sono state identificate più di 50 specie suddivise in 71 sierotipi quella più pericolosa a cui sono stati collegati circa il 90 per cento dei casi di legionellosi e la legionella pneumofilia la legionella deve il suo nome all'epidemia acuta che nell'estate del 1976 colpì un gruppo di veterani della american legend riuniti in un albergo di philadelphia causando ben 34 morti su 221 contagiati oltre 4.000 erano i veterani presenti solo in seguito si scoprì che la malattia era stata causata da un nuovo tra virgolette batterio denominato legionella che fu isolato nell'impianto di condizionamento dell'hotel dove i veterani avevano soggiornato le legionelle sono presenti negli ambienti acquatici naturali ed artificiali si riscontrano alle sorgenti comprese quelle termali nei fiumi e nei laghi da questi ambienti esseri salgono a quelle artificiali con le condotte cittadine e gli impianti idrici degli edifici come i serbatoi le tubature le fontane e le piscine sono state rilevate colonie di batteri anche in fanghi di fiume o di torrente o di o nell'argilla per i manufatti in terracotta le condizioni più favorevoli alla proliferazione sono condizioni di stagnazione presenza di incrostazione sedimenti biofilm presenza di amebe i batteri inoltre possono sopravvivere a una temperatura dell'acqua compresa tra i 5,7 e i 55 gradi centigradi mentre hanno un massimo sviluppo con la temperatura dell'acqua compresa tra i 25 e 42 gradi centigradi da evidenziare la loro capacità di sopravvivenza in ambienti sia acidi sia alcalini sopportando valori di ph compresi da 5,5 a 8,1 l'uomo contrae l'infezione attraverso l'aereo sol cioè quando inala acqua in piccole goccioline tra l'uno e i 5 micron contaminata da una sufficiente quantità di batteri quando questa entra a contatto con i polmoni di soggetti a rischio insorge l'infezione polmonare finora non sono state dimostrate la trasmissione interumana diretta l'infezione da legionella può dare luogo a due distinti quadri clinici la febbre di pontiac e la legionellosi la febbre di pontiac ha un periodo di incubazione di 24 48 ore e si risolve in 2 5 giorni è accompagnata da malessere generale e cefalee seguiti da febbre la legionellosi ha un periodo di incubazione medio di 5 6 giorni ed è molto più grave oltre a malessere cefalee e tosse possono essere presenti sintomi gastrointestinali neurologici e cardiaci e complicazioni varie nei casi più gravi può addirittura essere letale una polmonite da legionella non si distingue da altre forme atipiche o batteriche di polmonite ma è riconoscibile dalle modalità di convolgimento degli organi extra polmonari i principali fattori di rischio che favoriscono l'acquisizione della legionellosi sono età avanzata il fumo immunodeficienza sesso maschile patologie croniche degenerative in italia sono stati registrati mediamente qualche centinaio di casi di legionellosi ogni anno ma si ritiene che tale numero sia in realtà sottostimato anche perché a volte la malattia non viene diagnosticata la malattia è letale tra il 5 e il 15 per cento dei casi bene per questa prima parte del video sulla legionella è tutto se hai deciso di acquistare un purificatore d'acqua scrivimi o telefonami ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato e ti aspetto al prossimo video ciao